Partita regolarmente La batteria con De Angelis che si è portato in testa seduto da Tagliente Allungalo Partita regolarmente La batteria con De Angelis che si è portato in testa seduto da Frigo Partita regolarmente La batteria con De Angelis che si è portato in testa seduto da Tagliente La batteria con De Angelis che si è portato in testa seduto da Tagliente Ceola seguito da Tagliazzo che in partenza ha avuto un'esitazione, ha perso un passo, ha scivolato La batteria con De Angelis che si è portato in testa seduto da Tagliente La batteria con De Angelis che si è portato in testa da Tagliente La batteria con De Angelis che si è portato in testa seduto da Tagliente La batteria con De Angelis che si è portato in testa seduto da Tagliente La batteria con De Angelis che si è portato in testa seduto da Tagliente tutto da Bunchiero, poi Mulai, poi Mascazzini, ed ecco loro sulla cuva che li mettono sul rettilineo d'arrivo, si aprono, occupano tutta la sede stradale e vanno a chiudere con, sulla stessa linea praticamente, che ci hanno fornito tanti piccoli e grandi campioni, intanto la gara si sta sviluppando con la prota della postura di Berlusco che si è portato in testa, si tratta di Bossi, seguito da Menegaldo, arriva anche l'atleta del New Roller, vanno a chiudere sulla stessa linea 38 546, partita la batteria e ne è flash flash, vanno i, che parte a tutta, scarica Watt sotto le ruote, l'atleta Sarto Cagliaritano, Manai si presenta sulla rettilineo d'arrivo, vanno a chiudere in 38 678, davanti, guadrati, vanno a farsha, è tutta la batteria ed è il curvato che si porta in testa, Davanti a Rodighezio Guerrero, rubato poi Rodighezio Guerrero Manzotti allunga l'atleta di Spinea, qua bisogna essere acidi, stare sul bagnato e papo allunga il rispetto al gruppo va a chiudere il 38-328 davanti a Battista la batteria ed è la flotta di Battista la batteria di Spinea che si è portato in testa, l'usato ora viene sopravvanzato da Piotto quindi Piotto legato e da Manuel Piotto anche lui ieri fresco campione italiano sulla 15.000 eliminazione che va a chiudere in 38-700 è partita la decima, l'ultima batteria della categoria Junior Maschi ed è Massa, vediamo se riesce a completare sì l'operazione e Massa si porta in testa seguito da Minari, la prima batteria della scattività di Clare di Mundo, che è rimassa va a chiudere, vediamo il crono 39-194 grazie 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 grazie